Buonasera amici, benvenuti qui in questa bellissima location della Masseria Luce. Qui siamo nel salotto di Carme per Contra, questa sera abbiamo anche un ospite di eccezione, Enzo Cuomo. Benvenuto Enzo. Grazie, 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 sono un po' emozionato comunque. Buon carnevale a tutti, ecco, in tema carnevalesco comunque. Io voglio subito salutare a Maria che è la tua manager. Buonasera a tutti e buon carnevale a tutti. Grazie, è che lei ti segue proprio in tutti i... Il mio angelo custode. Il tuo angelo custode. Allora, caro Enzo, tu hai fatto tantissimi spettacoli, a che età hai iniziato? Guarda che... No, è l'età può finire. No, è poi... Hai capito? No, 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 no. Tanti, tanti, tanti anni fa, tanti anni fa. Uno magari dirà, questo che è il figlio di Mosè. No, assolutamente, perché io ho iniziato che ero bambino. Senti, questa tua passione sviscerata posso usare di Renato Zero? Com'è nata? Allora, perché a me piace tutto ciò che io sono... So che fai anche altro. Io sono un rivoluzionario. Nel senso bene, però... Ci possiamo dare una mano. Allora, a me piace un pochino stravolgere le cose. Per cui io, anni fa, anni fa mi indirizzavo verso fondamentalmente Renato Zero, ma non solo, come ben sai, io interpreto un po' tutto il cantautorato italiano. Sì, 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 sì. Difatti, come diceva Giuseppe. E c'è la cosa che... Perché lui era un artista così polietrico, sapeva cantare, ballare, recitare. Allora, in queste tre confluenze artistiche, diciamo, io mi rispecchiavo, hai capito, poi i trucchi, le cose... E ti ha rapito. Eh, per diversi mi ha rapito, sì. Mi ha rapito questo fascino zeriano. È vero. E tu ti fai... Sì, faccio anche Renato Zero, ma non solo. Lo so, infatti... Qualche volta faccio pure Claudio Villa. Ah, qualche altra volta ci vorrei regalare qualche altra tua per il tuo canto. Allora, prima che ti chiediamo altre cose, io vorrei passare un attimo la parola a Maria. Maria, cosa possiamo dire di Renato... di Enzo? Beh, di Enzo possiamo dire che oltre ad essere una persona umilissima e un grande artista, effettivamente, come dice, nasce con la passione di Renato Zero, ma fa altro, molto altro. E diciamo che ha avuto un pochino, pochino, si è fermato qualche tempo, ha avuto un attimo di fermi, però... Di riflessione, di riflessione. Chiamiamolo riflessione, riflessione artistica. E da poco ha messo in scena il suo nuovo show, il suo nuovo spettacolo live, quando lo zero diventa infinito. Proprio per questo, sì. In vari video che passano, perché abbiamo tanti amici in comune, quindi già ho visto alcune parti del suo show perché ci sono amiche che hanno registrato e quindi hanno fatto le video, videochiamate, un sacco di cose. Enzo, io voglio chiederti, ogni volta che sali su un palco, cosa ti resta quando finisci lo spettacolo? Mi manca il pubblico, mi manca il calore della gente, mi manca quando io esco e mi sento un po' solo perché, perché ovviamente perché il calore della gente tu non lo puoi mai dimenticare. Un artista vive proprio di questo, vive di queste emozioni. Allora, a proposito della gente, a tutti gli amici, gli amici... Vieni, avvicinati, vieni, Maria. Allora, io volevo dire altre date, però ne dico solo una, va bene? Allora, il 6 marzo, alle ore 21, teatro Lazer Felice. Ah sì, l'ho fatto prima di uno spettacolo. Allora, è carinissimo, comunque veramente, non solo c'è il mio spettacolo ma si mangia pure i fiocchi. Allora, accorrete, venite, starò lì, non solo io ma staremo tutti... È solo l'8? No, il 6, il 6, il 6. Ah, il 6, e poi? E poi ci saranno tante altre date, dai, vai vai vai, lo sveliamo, vai al momento, dai. Vabbè, allora, amici seguite Ad Enzo Cuomo perché è un bravissimo artista e poi è una persona, come ha detto Maria, che poi lo riscontro, è umilissimo. È di cuore, di cuore, di cuore. Grazie. E Giuseppe, vogliamo chiedere ancora qualche altra cosa? Io sto parlando solo degli amici in comune perché poi... Eh sì, perché è stato parecchie volte ospite di un amico che è molto, molto amico e quindi ci siamo esibiti là per lui il giorno di San Gennaro, eccetera, eccetera, però spero che almeno qualcuno... Si possa ricordare di questa data, ma io penso che comunque ci sarà qualcuno, non imminente ma... In un prossimo futuro, nemmeno a lungimiranza. A lungimiranza. A lungimiranza. A lungimiranza. E spero che magari per se ci sarà un'altra occasione di fare lo spettacolo, mi farebbe piacere che tu prendessi parte per continuare la tradizione. Ma come no, come no, assolutamente, ci sarò. Io ci sarò, ci sarò sempre, Alvider, ci sarò sempre. Cari amici, noi vi salutiamo, dopo vedremo questa bellissima performanza di Enzo Cuomo. Maria, vogliamo aggiungere qualche altra cosa? No ragazzi, seguitelo. Seguitelo, 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 seguitelo. Dal salotto di Carmen per Contra... Vabbè, non solo Sorcini, anche Sorcioni. Ah, ui, poi fai svelare l'età, vedi, eh. Noi vi salutiamo, dopo ci gusteremo questa bellissima performanza di Enzo Cuomo. Dal salotto di Carmen per Contra vi salutiamo. Ciao amici. Io ringrazio, ringrazio Carmen, ringrazio Giuseppe, ma soprattutto ringrazio voi. Ciao, ciao. Ciao.